Un tuffo nel passato di cento e passa anni la visita al villaggio Crespi d'Adda, villaggio operaio di fine ottocento, il luogo ideale per il lavoro e per viverci, secondo la concezione dei Crespi, famiglia di industriali proprietari di questo storico opificio tessile e inventori dal nulla di questa cittadella operaia riservata ai soli dipendenti della fabbrica. Il villaggio Crespi d'Adda è stato riconosciuto dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità. Crespi d'Adda si trova nell'estremo lembo della provincia di Bergamo, divisa da quella di Milano soltanto dal fiume Adda. Oltre ad un pezzo di storia, almeno industriale, Crespi d'Adda è paese, seppur speciale, come tanti, con 500 abitanti appena e la vita che scorre tranquilla, soprattutto in domenica e di sole come queste. Certo, la fabbrica tessile ha chiuso i battenti nel 2003, ma per il resto il tempo sembra essersi fermato e persino ristrutturato, vista la cura con cui sono conservate le memorie del passato, grazie soprattutto all'associazione culturale Villaggio Crespi. Nel villaggio operaio di Crespi d'Adda c'era tutto, naturalmente la fabbrica, con i suoi giorni e le sue fatiche, i suoi uffici, le sue ciminiere, ma non solo. Fu il primo caso di dopolavoro per gli operai e le loro famiglie. C'era e c'è ancora la chiesa, copia identica, più piccola, del santuario di Santa Maria di Piazza di Busto Arsizio, città natale di Cristoforo Benigno Crespi, il fondatore del villaggio. C'era e c'è ancora la scuola, c'era l'ospedale e ora c'è il presidio medico, c'era lo spaccio e ora c'è la sede di Villaggio Cultura che fornisce notizie e informazioni lì di fianco alla pineta, adesso ricoperta di neve. C'era e c'è ancora il cimitero alla fine di questo lungo viale alberato. La tomba della famiglia Crespi è in questo mausoleo a forma di piramide. Ai suoi piedi le altre lapidi, antiche, segnalate da croci di pietra e più recenti, in un luogo carico di suggestione. Nel mondo perfetto della famiglia Crespi, industriali, politici e già proprietari del quotidiano il Corriere della Sera, loro si erano riservati un vero e proprio feudo, vivendo nel loro castello privato, come i signori del Rinascimento, provvedendo tuttavia a tutti i bisogni dei dipendenti. Un atteggiamento non esattamente democratico, ma che evidentemente funzionava, anche se gli operai vivevano in queste casette con orto e giardino e non nel castello. Villette più confortevoli invece per impiegati, dirigenti e ingegneri della fabbrica. Per molti aspetti il villaggio Crespi d'Adda era già all'avanguardia. Ad esempio fu il primo paese in Italia a dotarsi di illuminazione pubblica con il moderno sistema Edison. Nella scuola tutto era fornito dalla fabbrica, dai libri alle penne, dai grembiuli allo stipendio degli insegnanti. Tra i servizi gratuiti per i lavoratori c'era addirittura una piscina coperta con doccia, spogliatoie e acqua calda. E infine una linea telefonica privata collegava il castello dei Crespi direttamente con la residenza di famiglia a Milano. Un piccolo mondo antico e operaio, quasi perfetto. Unica ma vergognosa nota dolente, le attuali condizioni disastrose dello storico lavatoio sistemato su un lato della piazza della chiesa. Il lavatoio cade a pezzi e in stato di abbandono, ma nessuno interviene, neppure la proprietà privata. L'associazione culturale Villaggio Crespi ha inviato una petizione con 3500 firme all'UNESCO e al Ministero dei Beni Culturali affinché si faccia finalmente qualcosa per restaurare il lavatoio. A metà strada tra un museo a cielo aperto e un normale paese, Crespi d'Adda sembra aver trovato un suo equilibrio, un luogo dove abitanti e turisti possono incontrarsi e confrontarsi oscillando serenamente tra passato, presente e futuro.